Grazie per la visione! Vi ho già spiegato l'assorbimento dei lipidi a livello dell'intestino tenue, quindi mi raccomando questa slide l'avete già vista nella precedente lezione. Qui continuiamo, abbiamo detto quindi, continuo immediatamente senza perder tempo, che i chilomicroni, ve ne ho parlato, vi ho detto come sono strutturati e via dicendo, passano al sistema linfatico. E dove se ne vanno dal sistema linfatico? Guardate che carina questa immagine, molto didattica, semplice ma piuttosto didattica. Per me ogni volta è soltanto un lavoro andare a beccare di tanto in tanto qualche immagine che non sia soggetta a copyright, perché ovviamente le immagini, come è giusto che sia, sono soggette a copyright. E quindi devo prendervi quelle di pubblico dominio, oppure devo crearle da me, la maggior parte delle volte le creo da me, però questa l'ho trovata di pubblico dominio e può essere liberamente condivisa per qualunque scopo. Quindi qui vedete, questo è uno dei tanti villi intestinali, ecco il livello dell'intestino tenue, e vi fa capire cosa succede quando vengono assorbiti i chilomicroni di cui vi parlavo nella precedente lezione. Ma come del resto anche il resto dei nutrienti che abbiamo visto, vi ho parlato dell'assorbiti, come vengono assorbiti gli altri nutrienti. Guardate qua, ovviamente sapete che nel villo decorre un'arteriola, decorre una venula e decorre un vaso linfatico nel nostro villo. Guardate in ogni caso che i nutrienti, come vi dicevo, quando vengono assorbiti, mi raccomando, non vanno a livello delle arterie, vanno nelle vene, quindi nella nostra venula, quindi vanno nel circolo venoso. Poi, grazie al sistema portale, grazie alla vena porta, vanno al fegato tutti i nutrienti per essere controllati. Poi dal fegato vanno via tramite le vene epatiche, arrivano alla vena cava inferiore, qui poi raggiungono il cuore, via via. Sapete tutto quello che è, ormai la circolazione la conoscete bene, spero abbiate studiato benissimo le video lezioni precedenti dell'apparato cardiovascolare. E dal cuore, poi ovviamente con il circolo sistemico, vanno a finire in tutti i tessuti di tutti gli organi, di tutti i sistemi apparati del corpo, quindi vanno a finire nelle cellule, i nutrienti. Ora, quando riguarda i chilomicroni, vi ho detto, sapete cosa c'è dentro, è tutto, ve l'ho spiegato nelle precedenti lezioni, vi ho detto che però vengono assorbiti a livello dei vasi linfatici, quindi entrano e vanno a finire qui. Ecco, guardate, sono questi in modo didattico qui, disegnati in questo modo i chilomicroni, ovviamente più grandi per motivazioni didattiche, però vanno a finire nei vasi linfatici, non i nostri chilomicroni, eh, mi raccomando. Quindi, e poi, i nostri, i vasi linfatici, dove li portano? Ovviamente, voi dovete conoscere l'anatomia benissimo, sia macroscopica che microscopica, o la studiate dai miei videocorsi, o la studiate per i fatti vostri, ma la dovete conoscere, questo è scontato, è propedeutica. Quindi, mi raccomando, se no, non toccate minimamente fisiologia. Quindi, sapete benissimo che, in fin dei conti, i chilomicroni vanno a finire nel sistema linfatico, e ovviamente poi i vasi linfatici, dove andranno a terminare. Grazie al dotto toracico, che conoscete benissimo, vanno a finire, a livello della vena su clavia, vanno a finire nel circolo venoso, e poi vanno in circolo, quindi, in definitiva, in tutta la circolazione. Possono circolare nel sangue, e quindi, andare nei, in tutti i tessuti degli organi, che ne hanno bisogno, che hanno bisogno di trigliceridi, li presenti, piuttosto che di colesterolo, li presenti, adesso vedremo meglio. Comunque, qui, questo è il circolo dei chilomicroni, ecco, dal momento in cui vengono assorbiti, quindi entrano nel, nel circolo linfatico, e poi fanno quello che vi ho detto. Quindi, dalla linfa passano al sistema circolatorio, al sangue, e dobbiamo un po' vedere cosa succede adesso. Grazie a tutti.